Noi abbiamo votato Jeka soprattutto perché ci è sembrato un film molto interessante dal punto di vista culturale ed emozionale perché ci ha proprio suscitato delle fortissime emozioni non ha guastato certamente che l'attrecia fosse davvero molto bella e molto brava e molto giovane anche e noi siamo stati quasi all'unanimità abbiamo votato questo film come vincitore perché effettivamente ci ha proprio coinvolti a livello emotivo e in tanti sensi Posso dare una figliata a tutti gli altri ragazzi che hanno votato? Vuoi dire il tuo nome? Laura, Serena, Taila, Roberto e Roberto Grazie ragazzi Poi siamo molto contenti anche che Maria abbia vinto tutti i premi possibili che le giurie potessero darle No, sono proprio molto contenti Grazie ragazzi